Diventa un vero e proprio scontro politico la mancata domanda per l'assegnazione della bandiera blu. Il sindaco Angelo Sbrocca ha già dato la sua versione, la bandiera non è tra le priorità della città adriatica. Dopo i 5 stelle si sono aggiunti anche diversi consiglieri di minoranza che hanno protocollato un'interrogazione. Il centrodestra si chiede del perché il primo cittadino non abbia presentato questa richiesta, a firmarla Antonio Di Brino, Michele Marone, Annibale Ciarniello e Michele Paradisi. Sempre ieri Lega, Fratelli d'Italia e la neoformazione civica Prima Termoli hanno tenuto una conferenza stampa per illustrare le motivazioni di questa interrogazione. Questa è una cosa veramente di una gravità inaudita e ancora più gravi risultano le affermazioni del sindaco di fronte a delle richieste di chiarimenti, domande specifiche sul punto, laddove dice no vabbè ma tanto la bandiera blu è un mero vessillo che non incide più di tanto sulla cosa. Cosa errata perché la bandiera blu rappresenta la carta d'identità di un comune turistico, di un comune costiero. È chiaro che quando un turista che non conosce una località di mare va su internet nella scelta preferisce il comune che è stato omaggiato della bandiera blu. Il dubbio sorge spontaneo, strategia per evitare un no in campagna elettorale e forse la consapevolezza di non aver risolto questioni che hanno già negato il vessillo la scorsa estate. Quest'anno peserà parecchio sul bilancio turistico per l'anno 2019 ma io credo che peserà soprattutto per l'anno 2020 perché ovviamente si fa tutto su internet, le persone scelgono le mete e le località turistiche anche in relazione a quella che è il riconoscimento per la bandiera blu dell'anno in corso e degli anni precedenti e quindi probabilmente anche per l'anno 2020 pagheremo le conseguenze di questa mancata presentazione. Non le manda a dire neanche Luciano Paduano di Fratelli d'Italia che ironicamente sostiene come la mancata presentazione della domanda sarebbe un fallimento per tutti. Ma la bandiera blu porta turisti a Termoli e quindi di tutto questo se ne avvantaggia tutto il commercio termolese dai negozi che stanno nel vicino corso dove gli affitti sono esorbitanti quindi questi locali, questi negozi si mantengono proprio con una maggiore affluenza estiva e così fanno un po' come le formiche, mettono da parte per poi tirare a campare durante l'inverno. Con un'assenza di bandiera blu si ridurranno drasticamente le visite turistiche e quindi anche gli ingassi per i nostri commercianti, non solo termolesi perché poi il turista quando viene qua compra l'olio di larino, compra formaggi dell'Alto Molise, la pasta molisana, insomma ognuno porta con sé un ricordo di questa terra meravigliosa.